Il cantiere del Parco Iris aprirà in autunno. Con un mese d'anticipo sono stati assegnati i lavori per l'ampliamento del più grande parco cittadino padovano. Con un ribasso del 14,2%, ad aggiudicarsi l'appalto è la ditta abruzzese Omnia Servizia SRL, che ha avuto la meglio rispetto ad altre nove ditte. Sette aziende, invece, sono state escluse per ribassi eccessivi considerati anormali. Nella roadmap per l'ampliamento dell'area verde, la data di assegnazione ai lavori era fissata a luglio, un mese guadagnato quindi nel cronoprogramma. Due milioni di euro i fondi a disposizione arrivati dal PNRR. L'offerta al ribasso porterà però un risparmio stimato di 400.000 euro. Quest'anticipo ci permette di avviare il cantiere in autunno e di affrontare serenamente eventuali imprevisti che possono sempre emergere quando si parla di opere di questo tipo, spiega l'assessore al verde Antonio Bressa. Anche in questo caso il Comune si dimostra virtuoso rispetto ai tempi dettati dal PNRR e, una volta affrontato il normale iteramministrativo di firma dei contratti, potremo partire con i cantieri.